Oggi è arrivata una doccia fredda, non ve l'aspettavate? Beh, c'è tanta amarezza e tanta delusione, perché la comunicazione di stamattina doveva essere un incontro in provincia per attivare anche la provincia rispetto a un passaggio tra banche e impresa, per poter avere una continuità aziendale di lavoratori non-hager. Fatto questo primo passaggio anche dal presidente della provincia sulle condizioni e la gestione, interviene il funzionario di Confindustria a Bergamo, a nome e per conto dell'azienda, e dichiara ufficialmente con poche parole che l'azienda Onhager non ha più le condizioni per essere operativa. Altro che doccia fredda, qua siamo veramente sprofondati in un abisso. Noi abbiamo fatto una proposta nostra dicendo alla provincia, noi incontriamo le banche, la provincia a questo punto si è associata, faremo questo incontro con le banche per vedere che cosa ne può essere di utile. Nel frattempo che avremo una risposta e siamo in attesa, noi abbiamo già programmato un presidio continuativo fino a mercoledì 31 e il giorno 31 per cui è mercoledì della settimana prossima, dalle 10 facciamo un corteo che parte dall'azienda Onhager dai Cancelli fino all'auditorio di Albino e lì possiamo vedere che risposte dare i lavoratori. Utile chiedere in questi casi quali siano i sentimenti dei lavoratori, è facile immaginare? Sono molto arrabbiati e come ho detto anch'io con me delusi, però io devo dire anche grazie a quella gente, a questi lavoratori che sono impegnati con noi nei trascorsi dei mesi precedenti, ma specialmente in questi ultimi giorni per le iniziative che abbiamo fatto assieme e per cui grazie ancora di cuore e attendiamo questo nuovo passaggio all'auditorio di Albino.